bella a tutti ragazzi saluto da mirko e bentornati su gameplay channel e su youtube ers life allora amici riprendiamo questa bella serie quest'oggi con una bella novità finalmente come dal resto qualcuno di voi mi aveva già scritto nei commenti ma perché non compri qualche console finalmente oggi è arrivato il momento di comprare delle console vedremo quali tra pochissimo non vi voglio anticipare nulla non l'ho fatto fino adesso perché come vedete in questo titolo è piuttosto difficile riuscire a organizzarsi soprattutto con il discorso dei soldi come sapete adesso siamo in un appartamento viviamo da soli ce ne siamo andati via di casa già da da un po e però ovviamente quando eravamo con la mamma dovevamo studiare però non dovevamo pagarci l'affitto qua invece chiaramente dobbiamo pagarci l'affitto quindi dobbiamo stare sempre attenti a non spendere troppo perché come mi ha già anche scritto qualcuno di voi nei commenti se non paghiamo l'affitto per un mese andiamo in rosso se non lo paghiamo per il secondo mese sarà game over quindi chiaramente bisogna fare attenzione a questo e quindi bisogna valutare molto bene le spese da fare però in questo gameplay comunque riusciremo finalmente a comprare delle console quindi inizieremo anche i gameplay su console per cui andrà assolutamente bene vi dico come nello scorso video non so perché in realtà sto registrando questo video come vi ho già detto appunto nel video delle due di seguito quindi io non so per il momento quanti like insomma quante visualizzazioni ha fatto comunque lo dico anche in questo gameplay dai ragazzi arriviamo almeno 50 like per questa bella serie visto che vi sta piacendo così tanto fatemi contento cerchiamo di arrivare almeno 50 like ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti commentate condividete magari anche con i vostri amici sui vostri social e a questo punto direi di iniziare subito il gameplay ben amici rieccoci in game riprendiamo da dove ci eravamo fermati dunque dobbiamo ricordarci della presentazione che abbiamo tra l'altro oggi se non mi ricordo male sì perché il 19 quindi dovrebbe essere dovrebbe essere tra poco ok esatto quindi andiamo all'evento almeno c'è la maglietta se non siamo vestiti sempre uguale mettiti questa qua mai mai l'evento così ok si può anche sui vestiti dovremmo comprare perché chiaramente penso influiranno anche insomma l'abbigliamento influirà anche sugli eventi almeno visto quando andavo appunto alle feste qualche qualche cosa sulle scarpe parlavano poi comunque eventualmente consigliatemi anche voi nei commenti benvenuta la presentazione che di un gioco da playstation 2 discorso è molto interessante devo dire grafica la venture vale qua ci spiega la rava e la pava di questo gioco da playstation 2 va bene e in teoria ragazzi partecipando agli eventi mi avete detto nei commenti scusate se l'audio è un po alto aspettate magari passiamo un attimo è alto lo stesso in teoria dovremmo avere degli sconti e infatti qualcuno scusate che non ho qua sotto mani commenti appunto ha pure gli applausi per questo bel discorso ok me ne vado mi ha detto partecipa agli eventi soprattutto a quelli dove presentano telefonini insomma accessori questo tipo perché ti fanno un sacco di sconti appena terminato l'evento e questo potrebbe non essere male ok beh qua c'è la festa va bene io comunque va bene andrei ragazzi non sto qua alla festa va bene facciamo la foto facciamoci anche la foto ok facciamo un po di punti esperienza che non fa mai male thank you va bene si grazie grazie a te ok me ne vado me ne torno a casa ragazzi comunque l'evento abbiamo partecipato adesso non so se poi ci faranno uno sconto su questo gioco ma in ogni caso sì forse sì ok va bene comunque in ogni caso i punti esperienza li abbiamo presi andiamo a vedere sullo shopping cosa c'è di nuovo a livello di giochi tra l'altro appunto mi avete detto anche come ho detto forse lo scorso gameplay che appunto i giochi vecchi in realtà sarebbe meglio non venderli perché possono diventare poi dei best seller e quindi potremmo anche riutilizzarlo comunque potrebbe salire l'interesse per cui vabbè magari adesso vedremo di di fare così insomma di tenerli i prossimi che compriamo allora vediamo magari se io prenderei un gioco nuovo vediamo prendiamo magari questo qua delle macchine non è fantastico però comunque non costa tanto sinceramente ok dai iniziamo a comprare questo perfetto e poi andiamo a vederci anche magari qualcosa per il pc perché io l'altra volta ho dovuto avete visto comprare un pc nuovo che è quello che ho io che ho speso infatti 250 perché comunque gli altri vedete costano un botto per cui sinceramente interview team ok allora intanto facciamo questo ah ok una cosa che abbiamo sbloccato perfetto qui in teoria ce lo dovrebbe dare qua giusto no questo no aspettate dove che oddio cos'è cosa con gratulazioni 666 visitatore online store ma non so quasi accettare o meno dove si cancella perché non mi fido sinceramente non vorrei che sia qualche fregatura ok allora intanto è arrivato il gioco nuovo quindi direi comunque intanto di fare un gameplay partiamo col gameplay dopo guardiamo il tutto allora facciamo una prima impressione su questa direi che c'hai da lamentarti allora monodirezionale ok si qua lasciamo tutto a posto si qua va bene il titolo così le prime impressioni va benissimo vediamo di fare questo video allora va bene questo iniziali è un gioco di corse ci mancava perché fino a se non l'ho ancora non l'ho ancora fatto commento serioso nel cutscene ok ok easter egg dunque direi di mettere questo a che ci dà un po più di suono che non abbiamo moltissimi punti nel sound ok qua vabbè abbiamo solo il professional com ma ancora che si è rotto il suo computer ma c'è proprio una ciofeca e cacchio l'ha appena comprato nuovo qua non ne possiamo mettere nessuna io a questo punto il countdown lo lascio perché vedete che il simbolo dopo è una di queste tre quindi comunque la vado a sfruttare dopo per cui anziché ha però no comunque non posso scegliere lo stesso perché ho finito i punti non avevo visto che avevo finito i punti ok quindi per forza così dunque direi di fare vediamo 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 e non è che ci sia in realtà molta scelta perché qua comunque me ne dà una in rosso provando a tenere così comunque sempre una in rosso ce l'abbiamo quindi non è che ci cambia sinceramente molto la vita allora così ne abbiamo due facendo così ne abbiamo comunque sempre due quindi non cambia nulla sì niente vabbè direi di tenerlo così ok dai mettiamo il titolo no anzi anziché il titolo metterei questo che ci dà qualche punto in più nella post produzione ok andiamo a fare il video comunque l'interesse dai buono il 58 per cento non è male abbiamo sbloccato comunque anche un nuovo livello qua va bene ok non so perché qua quando gli rispondo in realtà perdo di popolarità questo sinceramente non ho capito vabbè allora intanto direi andiamo a dormire ok poi andiamo a mangiare questo di troppo e andiamo ancora a mangiare ok vediamo un po quasi il video non è andato benissimo comunque vabbè insomma vediamo quanti like riesce a fare intanto mangia mangia ancora mi sa che hanno aggiunto anche dei suoni perché ecco tra l'altro ragazzi c'è stato un aggiornamento l'ho scaricato proprio prima di fare questo video qua un aggiornamento dove hanno fissato un po' di cose hanno risolto un po' di bug nelle collisioni insomma un po' di cose le hanno fatte vedo che hanno anche alzato il volume però di sti cavolo di effetti quindi proviamo ad abbassarli ancora ok perché mi sparano in cuffie non so voi come li sentite ma a me sparano un po troppo allora ripariamo intanto questo qua perché l'ha chiamato il tecnico che sta arrivando allora io intanto proverai a vedere sulle console ragazzi perché è arrivato il momento assolutamente di comprarci una console tra l'altro no scusate un attimo io ho un gioco per l'xbox 360 mi pare giusto si dovrebbe essere per la 1 per la playstation 2 che però è basso di interesse e questo per la 360 quindi proverei quello sinceramente sulla 360 che comunque ancora un po di interesse ce l'ha per cui tirati via dalle balle te vai a casa tua usare il tuo pc non rompe le balle allora però la torpa la 360 costa costa un botto costa veramente veramente tanto prenderei questo punto magari prima proverei con la playstation 2 che comunque costa un po di meno perché se no davvero la 360 costa 500 o se no ce la rischiamo è che poi con l'affitto ragazzi non voglio rischiare di di dovermi incasinare poi col pagamento l'affitto ok l'odio che cavolo questo sinceramente non ho capito cosa vuole ok va bene però sono salito i 5 popolarità vabbè meglio così non ho capito cosa che vuole è arrivata la nostra playstation 2 eccola qua qui no no che vendi ok file game in video allora questo punto però come playstation 2 abbiamo solo questo che è un po bassino di interesse è sinceramente un po bassino però però proviamo a farci comunque una prima impressione e vediamo no ma la playstation me la devi fare perché me la fa qua scusa un attimo io ho selezionato il gioco giusto si era quello della playstation pc playstation 2 ok no gameplay no prima impressione a meno che la prima impressione me la fa sul computer ma sembra strana per la playstation 2 va beh ragazzi proviamo a vedere un po che cosa fa allora va bene a facendo ah no ok va adesso ma perché lo vedevo lì a pc mi suonava strano ok fa la prima impressione allora qua è tutto aggasato antecitare se giocava playstation 2 poi non è che happy expression va bene abbiamo solo questa ok direi di fare questa che ci da un bel po di punti ragazzi ok fa abbassato diciamo il livello di quell'amico lì probabilmente lo gli dovrò anche chattare ogni tanto farei questa perché sennò ragazzi non ci bastano i punti sperando che ci dia peraltro anche le carte sì ma non ci bastano lo stesso no non ci bastano lo stesso e se faccio questa comunque non mi rimangono abbastanza punti quindi qua necessariamente devo far scendere il countdown per forza di cose perché sennò non posso fare nulla tanto anche se gli seleziono questa carta rimaniamo poi con un punto quindi vediamo se magari selezionando questa con un punto ci da quella finale che mi sembra costasse un punto no neanche non c'è neanche dato quella finale cioè sì c'è la data ma costava addirittura 8 punti quindi niente dobbiamo concludere qua così ok andiamo per cui a fare il video va bene se comunque 97.000 iscritti è buono direi che buonissimo così questa la metterei qui anche qua non ho tantissima scelta purtroppo se non mi cambia non mi cambia assolutamente nulla metterei questa mettere a sto punto queste poi questa qua sì mi sa che l'unica l'unica e far così allora qua di questi no già un po di punti andrei a mettere soft focus con un po di punti nella post produzione ok andiamo a processare e interesse proprio bassissima questo qua interesse veramente basso anche perché mi sa che è uscito già da parecchio quindi converrà poi adesso comprarci anche a sto punto un titolo nuovo no per il momento allora la chat direi di no facciamo così andiamo a mangiare mangia un po di volte perché siamo un po bassi mangia ancora ok rimangia ancora va bene bevi bevi magna così recuperi un po di cose ok e adesso andiamo a vederci poi anche a questo punto se su pc cioè su playstation 2 scusate magari c'è appunto qualche titolo nuovo magari dormiamo anche così almeno recuperiamo un po e poi andiamo un attimino a vedere questo è un sacco di police in giù ragazzi questo è proprio andato malissimo sto video e d'altronde vabbè ci ho provato perché effettivamente volevo un attimino vedere cosa cosa faceva ma sta andando comunque parecchio parecchio male quindi cerchiamo di recuperare andandoci a prendere direi questo per playstation 2 che comunque è uscito è uscito il 10 maggio vediamo ps2 ps2 questo è uscito il 21 quindi questo è uscito da poco vediamo vediamo cosa possiamo fare allora vediamo il top seller cosa ci dà ci dà questo qua sempre con la solita copertina di mario bros e io quasi quasi mi prenderei questo sempre delle corse che comunque ha un interesse alto e costicchia anche poco sinceramente non ci faccio una prima impressione perché è uscito già da un po quindi andiamo a comprarci questo perché assolutamente ragazzi si conviene fare assolutamente un video al volo allora intanto andiamo a fare magari un lavoretto così ci vecchiamo altri soldi intanto che arriva che arriva il gioco che è arrivato a questo gioca pura playstation così va bene qua dice in casa mia si fanno tutti i fattaci loro comunque ragazzi mi raccomando vi ricordo di sostenere sempre la serie mettendo un bel pollicione in su quindi se non l'avete fatto andatelo subito a fare tanto basta che chiudete riducete il video e andate a mettere un bel pollicione in su ok dai andiamo a fare questo direi di farci il gameplay assolutamente e poi magari potrei anche provare a invitare la tizia a casa e fare un gameplay in collaborazione sulla playstation tra anche provare questo sicuramente ci alza un po l'interesse perché abbiamo perso un bel po di popolarità con quel video lì di prima mannaccia la miseria qua aspetterei perché dopo vedete c'è l'icone possiamo scegliere fra questi tre quindi non andrei a sprecare punti perché vorrei scegliere questa da dieci da dieci punti sinceramente perché così almeno ci da quattro punti quattro in script e quattro in performance e direi che ne può valere la pena ok qua sceglierei questa magari da quattro scegliamo in questa che abbiamo meno punti di script sperando che ci dia la carta giusta qua c'è la data sì ma costa troppo e proviamo a utilizzare quella che costa meno sperando che ci dia qualche carta che costa un po di meno no niente no non posso fare nulla perché vedete sono bloccate abbiamo purtroppo pochi punti ragazzi quindi aspettiamo il countdown perché purtroppo non possiamo fare altro anche se gli vado a mettere questa tanto mettiamogli questa così mi fa fare subito next e non devo aspettare il momento il countdown ok record good video sì va bene per il ds non ce l'ho però visto che ci dà 420 potrei anche comprarlo sinceramente così magari prenderei anche il ds che non sarebbe male almeno abbiamo anche una console in più su cui fare video allora a ok o il l'affitto da pagare vedete questo caspita di affitto qua è una menata allora vediamo di concludere il video dunque metterei questo così e anche qua non è che abbiamo sinceramente tantissima scelta non ne abbiamo proprio un granché allora facciamolo così ok così linea di massima aspettate forse così no è uguale perché tanto poi non posso comunque cambiare questi due ok lasciamo questo gli metterei sempre il soft focus perfetto ne ha processare questo avete belli interessa per fortuna decisamente più alto rispetto a quello di prima ok new level va bene dai pubblica il video intanto andiamo a vedere qua è arrivato il gioco nuovo quindi per il ds ma intanto vai a dormire ok non puoi vedere di scegliere la console giusta si vede nintendo ds ok quindi dopo che dormito andrei di nuovo mangiare mangia un po di volte perché così almeno recuperi un po c'è una fame dalla madonna magna si poi potrei comprare anche del cibo che ci dà un po di più è così senza starli a prendere tutte le volte queste cose qua che ci danno poco però come detto ragazzi almeno sono gratis così non mi fanno spendere soldi ce ne sono pochi ok qua comunque il video beh questo qua dai direi che sta andando bene assolutamente scusami chiuso la finestra mangia ancora una volta ok da il video dire che stando me andiamo sullo shopping così andiamo un po a vedere papà al console vediamo console ok si tirami via sta ecco qua il nintendo ds beh questo direi che assolutamente ciò possiamo comprare perché tanto costa 189 quindi mi comprerei questo così andiamo sì 189 giusto ok comprami questo così andiamo a farci subito il video al tipo ok console va bene va bene vediamo power super party vabbè qua c'è un po di roba che apri questo va bene allora qua abbiamo il ds quindi chiudimi sto coso ok farei assolutamente le prime impressioni su questo che è uscito comunque il 27 maggio quindi da poco perfetto si qua lasciamo tutto così prime impressioni va bene perfetto facciamoci un video sul ds va lì come spipola anche sul ds andiamo con questo perfetto qua non possiamo fare nulla buttiamogli dentro magari questa da 2 così mi sblocca qualche carta dopo ok andare a fare questa da 11 così ci da un po di punti in più andare a fare questa magari faccio quella da qua no farei quella da 7 sapete sì dai facciamo quella da 7 che ci da decisamente più punti farei quest'altra anche da 7 si aveva un po di punti però poi mi sa che abbiamo finito a nove possiamo fare anche questo ok ci manca l'ultima ci desse quella da 1 la carta da un punto saremmo a posto purtroppo no già dato quella da 8 vabbè comunque direi che abbiamo fatto un bel botto di punti in questo gameplay quindi immagino che sia andato piuttosto bene allora perfetto vediamo di sistemare qua tutta la faccenda allora io metterei questo questo poi andrà a mettere questo poi andrà a mettergli questo ok poi qua necessariamente una e no cacchio però se lo metto così non va bene non va bene mettendolo così sì forse mi sa che l'unica e metterlo così allora andiamo a mettergli punti sempre in questo ok andiamo a processare vai processa quale vedete l'interesse piuttosto alto abbiamo fatto un nuovo record di contenuti e anche gli altri sono decisamente molto alti e sbloccato un bel po di nuovi livelli perfetto pubblichiamo il video ok invitato l'evento sì allora kinky robot warrior sì va bene dai tanto per la playstation 2 questo qua ci può anche servire ok quindi dobbiamo ok vediamo la carta che abbiamo sbloccato va bene abbiamo sbloccato questa allora fame e sonno siamo relativamente messi bene quindi andrà a fare magari un lavoro così ci guadagniamo altri 40 dollar ozzi beh ragazzi abbiamo preso due console quindi ottimo così intanto qualmeno carica il video questo comunque è che palle sto copyright però porca di quella miseria e no vabbè 280 cioè 280 no no mi tocca cancellare il video mannaccia la miseria vabbè niente ci è toccato purtroppo cancellare il video perché probabilmente quel gioco lì ce lo dà come copyright e quindi niente non possiamo mi sa farlo abbiamo intanto comunque degli altri giochi come siamo interessi però anche questo qua ho paura che mi becchi sempre il copyright io proverei anche a farne un altro però ho idea che purtroppo mi me lo blocca di nuovo per copyright va bene se gli altri sono tutti abbastanza bassi quindi starei magari su questo proviamo a fare un'ultima cosa invitiamo la tizia e quit allora invita un attimo la mia amica ok allora invita a casa invita a vedere il film no per il momento no ti ringrazio ma non mi interessa ok allora te collabora il video ok facciamoci un bel video in collaborazione su questo perfetto dalla playstation 2 vai così almeno ci facciamo bel video con mettiamo bidirezionale poi non ho capito perché mi fa scegliere questa attrezzatura se poi in realtà vado a giocare con la playstation vabbè utilizziamo sempre quella del pc dai che che caitlin che come caspita ti chiami ok come stipulano che casino si vabbè ma anche senza fa sto casino potreste farli gameplay stanno fa una caccia allora va bene mettiamo questa qua da 8 ok mettere questa da 4 perfetto così risparmia un po di punti ragazzi perché non ne ho tanti purtroppo facciamo questa qua no qua non ne posso fare non posso fare niente e aspetto a questo punto il countdown per fare poi quest'altra perché sennò non mi bastano i punti ragazzi che fa il countdown muoviti perché mio personaggio sta morendo di fame c'era anche la presentazione era già adesso la presentazione ecco cacchio non l'ho controllata penso che riesca ad andarci comunque dopo abbiamo questa però abbiamo finito i punti quindi niente andiamo su next e concludiamo qualche play ok creami il video così questo dovrebbe comunque andare a creare molto interesse allora sempre che ovviamente siamo fortunati e anche qua non è che ho tantissima scelta sinceramente no dunque se lo metto così purtroppo non va bene perché poi non riesco ad abbinarli quello lì a perché questo qua il primo ok quindi poi quello quello andrei a fare no cacchio così non mi va niente l'unica è fare così si mettere il titolo perché comunque abbiamo pochi punti in questa abilità qua nella prima che non mi ricordo mai qual è ok vai processa tanto ci si è rotto come al solito di nuovo pc tanto per cambiare però poi comprarci anche un nuovo pc perché come vedete questo si spacca sempre comunque l'interesse qua è molto molto alto per cui bene così allora tanto tu andrà devi anche andare all'evento va bene vai così non so se può andare all'evento mezzo morto di fame vabbè tanto qua carica il video cioè fer rendering e poi farà il caricamento del video vediamo un attimino sto evento ok che sempre evento del gioco e spero che non muovi il personaggio ragazzi perché sta a morire fame sì vabbè dai taglia corto st evento e lo so che c'hai fame che ti posso dire altro non mi fa neanche andar via sì va bene qua ci dirà lavorava la fava di questo titolo qua che poi magari compreremo perché visto che abbiamo la playstation 2 però almeno così ragazzi con le console sicuramente possiamo andare a fare anche gameplay più vari e questo ovviamente non è assolutamente male ok sarà venduto a 49 90 va bene va bene questo mi ricorda sempre più i sims dell'applauso comunque si è bel discorso quindi addirittura ti fanno l'applauso ok andiamo ce n'è subito subito a casa ragazzi perché devo assolutamente mangiare direi di andarmene di corsa a casa vai 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 no non voglio parlare con te me ne vogliano a casa a tenere subito a casa mai subito subito a casa ragazzi di volata ok comunque qua abbiamo abbiamo finito quindi questo l'abbiamo completo completato meno questo evento ci siamo andati che comunque ci fa guadagnare un sacco di punti esperienza poi a prescindere che riusciamo a avere degli sconti sicuramente il fatto che aumentiamo l'esperienza non è per niente male vai magna ancora mangia che devi recuperare un po allora intanto qua fare ripara così almeno ok di farlo mangiare ancora un pochetto intanto che mi ripara il pc perfetto qua vedete il video porca miseria mangia che beviva mette il video comunque sta andando bene e abbiamo superato i 100 mila iscritti siamo a 105 mila ragazzi quindi direi assolutamente ottimo così va bene amici allora direi che anche per questo gameplay è tutto come sempre come detto all'inizio del video mi raccomando fate come nel gioco quindi un bel po di pollici in su per continuare a sostenere questa serie e darmi una mano anche a sostenere tutto il canale iscrivetevi naturalmente al canale se non siete iscritti commentate condividete a questo punto noi da youtubers life ci salutiamo e ci becchiamo al prossimo gameplay ciao belli